Non è stata cosa nostra a far sparire dopo la strage di Via D'Amelio e l'agenda russa di Paolo Bosselino, lo dicono i giudici del processo per il depissaggio sulle indagini della strage che uccise il 19 luglio del 92 il giudice Bosselino e cinque agenti della scorta. Nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di tre poliziotti per i giudici, la conseguenza è l'appartenenza istituzionale di chi ebbe a sottrarre materialmente l'agenda, potendo intervenire indisturbato in quel determinato contesto a spazio temporale. Per i giudici di Caltanessetta, movente della strage e finalità criminale di tutte le iniziative sono intimamente con Nisse.